Ciao a tutti e benvenuti a Sgananzium! Il gioco che andrò a recensire oggi in realtà ve ne avevo già parlato nella scorsa puntata quando parlavo appunto della mia esperienza all'ultima play di Modena. Questo è un gioco che appunto aspettavo con molta ansia, si è rivelato soddisfare tutte le mie aspettative ed eccomi qui oggi a recensirlo. E sto parlando di Arkham Horror il gioco di carte, un gioco da uno o due giocatori della durata indicativa di 60-120 minuti. Arkham Horror il gioco di carte è un gioco collaborativo di formato living card game per uno o due giocatori che trasporta gli stessi nelle cupa spaventosa imitazione di Howard Philip Lawcraft. Ogni giocatore impersona un investigatore dell'occulto nel tentativo di sventare i piani di orrori senza nome. Nella scatola sono presenti tre scenari da giocare in modalità campagna, ognuno dei quali con precise regole per la preparazione degli stessi grazie alla lista di carte scenari necessarie. Le carte si dividono in carte trama, carte capitolo, carte luogo e carte incontri. Le carte trama rappresentano i progressi fatti dalle forze del male, mentre quelle capitolo i progressi dei nostri eroi. Le carte luogo rappresentano gli edifici, le stanze, le strade ed in generale i luoghi visitabili durante il corso dell'avventura, mentre le carte incontri i vari imprevisti, personaggi e mostri che intralceranno il cammino degli investigatori. Viene inoltre scelto il livello di difficoltà che determina quanti e quali segnalini caos vengono scelti per comporre il sacchetto del caos. Nella scatola non è incluso un sacchetto, ma è possibile utilizzarne uno qualsiasi o un contenitore, come per esempio una tazza. Ogni giocatore quindi decide quale investigatore impersonare. Ogni investigatore ha determinate caratteristiche di volontà, intelletto, scontro e agilità, e uno o più abilità speciali, oltre ad un certo numero di punti salute e punti sanità mentale. Quindi ne compone il mazzo di gioco, seguendo le regole riportate sul retro della carta investigatore. Pesca 5 carte dal proprio mazzo e colleziona 5 risorse. Ogni scenario ha le proprie regole per il setup, indicando quali luoghi sono subito disponibili, eventuali carte da tenere momentaneamente da parte, il luogo di partenza degli investigatori, eccetera. Può quindi avere inizio la partita, che si svolge in una serie di turni dalla struttura uguale. Per prima cosa, ma non durante il primo turno, ha luogo la fase dei miti. Viene collocato un segnalino destino sulla carta trama in cima al relativo mazzo. Se il numero di segnalini è pari o superiore alla cifra indicata sulla carta, la stessa viene girata applicandone gli effetti descritti e quindi scartata, rivelando quella successiva. Gli effetti sono sempre negativi nei confronti dei giocatori, rendendo la riuscita della missione via via sempre più difficile. Poi ogni giocatore pesca una carta dal mazzo incontri e ne risolve gli effetti, che possono essere l'uscita in campo di nemici o particolari sventure o difficoltà aggiuntive. Nel caso un nemico venga posizionato nello stesso luogo dove si trova in un investigatore, questo lo impegnerà automaticamente. Vedremo le regole di impegno più avanti. Quindi è luogo la fase degli investigatori, che agiscono a loro libera scelta. Ogni giocatore ha a disposizione tre azioni, anche ripetibili ed eseguibili in qualsiasi ordine, a scelta tra pescare una carta. Se la carta pescata è una debolezza, questa va posta nell'area di gioco di quel giocatore e subito attivata. Ottenere una risorsa. Attivare una qualsiasi abilità con l'icona della freccia, quelle con l'icona fulmine invece sono attivazioni senza alcun costo. Giocare una carta pagando il costo in risorse. Le carte evento vengono scartate subito dopo l'utilizzo, quelle supporte invece permangono. Importante precisare che esiste un limite di carte con lo stesso simbolo controllabili contemporaneamente, cioè un alleato, un corpo, un accessorio, due mano e due arcano. E che se è presente la dicitura veloce, giocare con la carta non costa un punto azione. Muoversi verso un luogo, spostando la propria mini carta investigatore, purché l'icona del luogo di arrivo corrisponda con quella del luogo di partenza. I luoghi inizialmente sono sempre considerati chiusi. Una volta visitati, vengono aperti e girati sul lato opposto, apponendo il numero di segnalini indicati dalla carta stessa. Fare un'indagine tentando di scoprire i segnalini indizio necessari alla prosecuzione della storia, confrontando il valore di oscurità del luogo con il nostro valore di intelletto. Viene quindi estratto casualmente un segnalino caos. Ogni segnalino va a modificare in positivo o in negativo il valore dell'abilità utilizzata in quella prova. Il segnalino con il simbolo Omen attiva l'abilità speciale dell'investigatore, mentre quello tentacolo è sempre considerato una prova fallita. Tutti gli altri simboli hanno un effetto diverso da scenario a scenario, come riportato nella carta di consultazione. Durante tutte le prove di abilità è possibile scartare una o più carte per aggiungere i simboli richiesti alla nostra caratteristica. Se ad essere giocata una carta abilità, si applica anche il testo della carta. Anche gli altri investigatori possono aiutarci donandoci carte con simboli abilità per qualsiasi tipo di prova, ma solo una per investigatore. Se il valore dell'abilità utilizzata più o meno è il valore del segnalino caos appena pescato è maggiore uguale a quello richiesto dalla prova, questa è considerata superata e l'investigatore colleziona un simbolo indizio. La dinamica di svolgimento di ogni prova di abilità è sempre simile a questa, cambiando esclusivamente la caratteristica richiesta e la difficoltà della prova. Collezionati i segnalini indizio richiesti dal capitolo attuale, possiamo spenderli e passare al capitolo successivo, sempre leggendo la retola della carta appena scartata. È possibile poi impegnare un nemico se è presente nel nostro luogo, spostandolo dall'area comune a quella personale, ovvero quella di fronte a sé. Da questo momento ci seguirà in ogni nostro movimento, come se fosse sempre nel luogo in cui ci troviamo. Altra azione possibile è quindi eludere, ovvero tentare di disimpegnarsi da un nemico con cui si è impegnati. I nemici infatti quando entrano in gioco, si muovono o vengono ripristinati nel luogo in cui ci troviamo, o si trovano già nel luogo in cui ci siamo appena spostati, impegnano l'investigatore automaticamente. Se un investigatore è impegnato con un nemico pronto, cioè non esaurito su un lato, effettuare una qualsiasi azione che non sia abbandona, combatti, evadi o negozia, causerà un attacco di opportunità, cioè i danni e gli orrori indicati dalla carta nemico. Quando un investigatore subisce un numero di danni o orrori pari o superiori ai rispettivi valori di salute o sanità mentale, quell'investigatore è eliminato dalla partita. È importante precisare che alcune carte sopporto possono assorbire ferite o orrori al nostro posto, ma con il rischio di venire eliminate. Per effettuare una prova di illusione bisogna confrontare il proprio valore di agilità con quello del nemico ed effettuare una prova di abilità esattamente come abbiamo visto in precedenza. Se la prova riesce, il nemico viene girato sul fianco ad indicare che è esaurito e quindi posizionato di nuovo nell'era comune in corrispondenza del luogo in cui ci troviamo. Un nemico esaurito non può impegnare o attaccare un investigatore. L'ultima azione è il combattimento. L'investigatore effettua una prova abilità comparando la sua abilità scontro contro quella nemica e, se ha successo, causano ferita al nemico. Se il nemico subisce un numero di ferite pari o superiore alla sua salute, viene eliminato. Se la prova fallisce, il nemico non subisce alcun danno e, solo se è presente la capacità di torsione, il nemico infligge i suoi danni all'investigatore senza esaurirsi. Inoltre, se il nemico è attaccato e impegnato con un altro investigatore e la prova fallisce, il danno va indirizzato a quell'investigatore. Quando un investigatore ha speso tutte e tre le sue azioni, girano la propria minicarta sul lato in bianco e nero, ad indicare che il proprio turno è finito e, quando tutte le minicarte sono girate su questo lato, ha fine la fase investigatori. Ha quindi luogo la fase dei nemici, che muovono verso il giocatore più vicino, eventualmente impegnandolo se pronti e con la capacità cacciatore, e poi attaccano, infliggendo automaticamente le ferite riportate sulla carta. Segue la fase di gestione, dove ogni giocatore gira a faccia in su la propria minicarta, ripristina tutte le carte esaurite, anche i nemici, pesca una carta, ottiene una risorsa e, se ha 9 o più carte in mano, scarta l'eccedenza fino ad averne 8. La partita prosegue ricominciando dalla fase dei miti, fino a quando si verifica la conclusione dello scenario se a dircelo è lo scenario stesso. Gli investigatori possono anche venire sconfitti, ma c'è la possibilità di poter continuare la campagna sempre se è lo scenario a dircelo. Alla fine della campagna, dopo aver svolto tutti gli scenari indicati, in base a come avremo condotto i vari scenari, i giocatori ne usciranno sconfitti o vincitori. Devo ammettere di non aver mai giocato a Darkham Horror, Il Gioco da Tavolo o Eldritch Horror, quindi non troverete termini di riparagone con questi titoli, ma questo gioco ha lasciato davvero il segno. Primo perché ha un cooperativo narrativo e l'impressione di riuscire quasi a giocare di ruolo durante la partita devo dire c'è tutta e per me è un plus non da poco. Basta anche pensare alle debolezze, un modo tanto semplice quanto ambientato di ricreare le fragilità psicologiche dei personaggi dei racconti di Lowcraft. E poi le sue divisioni in classi, come un vero e proprio gioco di ruolo, oltre alla diversa caratterizzazione dei personaggi, che poi si traduce nella tipologia di carte utilizzabile nel deck building, un po' come avevamo visto in Netrunner. E secondo per la meccanica del doppio uso delle carte, se scegliere di utilizzarle per le prove di abilità o per il testo delle stesse e vi assicuro che non sarà una scelta facile. Il gioco infatti mette i giocatori costantemente di fronte a una moltitudine di scelte e praticamente ad ogni turno c'è sempre una situazione di emergenza da risolvere. Insomma, non si tira mai il fiato. Il gioco infatti sta letteralmente col fiato sul collo dei giocatori, in quella che ha a tutti gli effetti una vera e propria gara tra il mazzo trama e quello capitoli, dando l'impressione ai giocatori di avere sempre meno tempo a disposizione e che la storia, con o senza di loro, è destinata ad avere comunque un epilogo. Altra cosa che mi è piaciuta molto è il fatto di poter utilizzare dei segnalini al posto dei dadi. Anche se meno elegante da un punto di vista dell'ergonomia, di fatto possiamo customizzare le facce dei dadi regolando il livello di difficoltà. È una cosa forse da poco, ma poter personalizzare anche il fattore casualità rende il titolo ancora più personale, dando l'idea di essere quasi tagliato su misura, senza snaturarne le meccaniche, se trovato troppo facile o troppo difficile. Inoltre è molto difficile che venga a galla, diciamo, un giocatore alfa, proprio perché è vietato tra i giocatori parlare apertamente e dichiarare quale carte si hanno in mano. Ma si può solo accennare in maniera un po' velata o comunque interpretando il personaggio. Ecco, questa cosa mi è davvero piaciuta. La cooperazione per la riuscita della missione è sicuramente d'obbligo. Finora l'ho giocato in uno o due giocatori, quindi non so dirvi in tre o quattro come possa essere il gioco, perché appunto necessita di una seconda scatola base. Devo dire che però in due il gioco è davvero bellissimo e in modalità solitario è uno dei migliori solitari ai quali abbia mai giocato. La modalità campagna poi è davvero ben studiata. Si ha proprio l'impressione di trovarsi dentro ad una storia ed è la stessa sensazione che ha avuto giocando alle case della follia. E il bello è che senza spoilerarvi niente, anche perdendo si può far proseguire la storia, che prende diverse diramazioni e conclusioni in base alle scelte che avrete fatto durante le avventure. Quindi la rigiocabilità, non solo perché perderete e perderete, ma anche per vedere le varie diramazioni possibili della storia, è assicurata. Anche se nota dolente per le vostre tasche, prima o poi l'acquisto delle espansioni sarà più o meno una cosa obbligata, non solo per vivere nuove avventure, ma anche proprio per il deck building, per riuscire ad avere un mazzo sempre più performante. Durante lo scenario è possibile guadagnare dei punti che poi possono essere spesi per far progredire e migliorare il proprio personaggio. Altri invece vengono acquisite facendo determinate azioni, aumentando quindi di molto questa sensazione di essere in una specie di gioco di ruolo e di sentire proprio il personaggio. Quella che invece la nota dolente principale è anche il suo punto di forza. Giocare singoli scenari non rende, come giocare la campagna. Per cui non è un gioco all'Android Netrunner da tirare fuori mentre aspettate il ritardo di turno. Certo potrete spezzare la campagna in più sessioni, ma il mio consiglio è di fare tutto in un'unica sessione, in modo da dare continuità narrativa alla vostra serata. Altra nota dolente riguarda un po' il regolamento, che sebbene tutto sommato il gioco sia semplice e lineare una volta domato, durante le prime tre o quattro partite mi sono ritrovato spesso a dover sfogliare il regolamento per cercare di dipanare alcuni dubbi. Diciamo che è scritto nel classico stile Fantasy Flight, ovvero un manuale con le regole base e poi un compendio con le regole avanzate. Ecco questo compendio vi assicuro appunto durante le prime partite vi ritroverete spesso a consultarlo. Ovviamente con l'esperienza non ne avrete più bisogno, però appunto qualche partita di rodaggio è assolutamente necessaria. Che dire quindi in conclusione? Un titolo che mi è sembrato sicuramente più immediato rispetto al già citato Netrunner e con una curva di apprendimento più adeguata rispetto al Living Heart Game del Signore degli Anelli. Forse l'ottima via di mezzo che aspettavo. E finisce anche questa puntata di Sgananzium. Vi ringrazio per avermi seguito ancora una volta. Vi ricordo che è sempre attivo il sito www.sgananzium.it, sotto trovate tutti i link a Facebook, Twitter, insomma a tutti i social in cui compaio. Vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!